Nel salotto di Radio Italia 5 siamo davvero contenti di ospitare Paolo Brunacci. Grazie mille per ospitarmi. Giovanissimo cantautore aretino che già conosciamo perché intercettato e intervistato dalla scopritrice di talenti e collaboratrice di Radio Italia 5, Arianna Gallo, qualche tempo fa, col primo singolo che si intitola Ombrello Giallo e che è andato davvero molto bene, Paolo. Sì, decisamente. Infatti Ombrello Giallo penso sia, mi piace dire, il progetto nel progetto perché comunque è da lì che ho iniziato a credere in me stesso, cioè a credere veramente in quello che facevo grazie al feedback positivo di sempre più persone. Infatti prima non è che non ci credessi, è che come a tutte le persone serve un attimo una spinta anche per credere in se stessi, non basta l'autostima pura. Però Ombrello Giallo, che è piaciuto tantissimo anche ai nostri radioascoltatori, poi è stato attenzionato anche ai piani alti, tant'è che è successo qualcos'altro recentemente. Sì, infatti mi sono trovato comunque contattato da Piuma Dischi, questa casa discografica di Fino Mornasco, comunque Milano, e niente, ho firmato questo contratto, sono molto molto felice perché grazie a loro comunque ho la possibilità di avere mezzi comunque più importanti rispetto a quelli che avevo adesso, e infatti già da domani tornerò lì a Fino Mornasco, dove c'è lo studio, per continuare questo progetto insieme, altre canzoni, altri progetti vari. Intanto è uscito un altro singolo. Sì, intanto è uscito un altro singolo, Fiendanimazione. Di che parla? Raccontaci. Allora, Fiendanimazione parla dell'attitudine che hanno i bambini verso il mondo. Perché? Perché io, così a caso, ero al parco con la mia ragazza, e ho visto, mentre ero sulla panchina, questo bambino che era felicissimo perché era al parco. Certo. Senza motivo, eh? Nessun motivo. Però? Io no. Per il semplice fatto che era al parco. Io avevo caldo, avevo sonno, volevo, non so, mangiare. Io era felice, cioè non è che aveva tanti problemi. Quindi io mi sono detto, perché è felice? E io no. Non perché stavo con la mia ragazza, ero felice, ma non ero... Avevo comunque quei problemi, avevo sempre i problemi, non so perché, sempre i problemi. E quindi ho detto, probabilmente perché lui non è che non ha i problemi. Cioè, magari ha i miei stessi problemi, però vede tutto in maniera diversa. Non ha sovrastrutture. No, 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 lui non ha retropensieri. Esatto. Infatti, da lì in poi, poi anche un po' per gioco, mi è venuta in mente l'idea del Fiendanimazione. Perché infatti film d'animazione, cosa succede nel film d'animazione? La visione è sempre positiva nel film d'animazione. Anche le cose brutte, alla fine, hanno sempre un risvolto positivo. Infatti, quando inizi a vedere un film d'animazione, parti con l'idea che finirà bene. Cioè, non è che inizi il film, non è un dramma. Quindi, cosa succede? Quando guardi il film, non importa cosa può andare male nel mezzo. Non importa quali problemi ci possano essere. Il fatto che c'è la speranza, c'è la tranquillità, la serenità, che tutto si risolve, che tutto va bene. Quindi, niente, è un insieme di cose che poi dopo le idee, un'idea chiama un'idea, non è che è stato creato tutto in un giorno. Quando nasce il tuo momento creativo, normalmente? Qual è il momento ideale per produrre? In realtà, guarda, ti dico, il momento ideale non c'è. Cioè, il momento ideale può essere a luna di notte, mentre svegli i miei genitori, può essere dopo pranzo, può essere alla mattina. Dipende. Ci può essere uno shock emotivo, magari, che mi ha fatto venire in mente qualcosa, e devo essere pronto a scrivere, perché magari non ho voglia. Perché magari è un shock emotivo forte, magari può essere positivo o negativo. Io tendo a godermi la cosa, che sia, se sia brutta o cattiva, tendo a viverla, e poi dopo analizzarla. Diciamo, il lato in cui scrivo le canzoni è il lato in cui io rifletto su quello che è successo. Quindi non c'è un vero e proprio momento. In realtà, prendo una canzone, posso iniziarla e riprenderla il giorno dopo, riprenderla il mese dopo, o mesi dopo, perché magari non ho più quel mood, quell'atteggiamento lì, e devo scrivere un'altra canzone. Posso scrivere sei canzoni allo stesso tempo e non finirne una. Quando hai iniziato a scrivere canzoni e avvicinarti al mondo della musica? A scrivere da tanto, comunque io scrivevo anche a scuola, anche da bambino, scrivo sempre pensieri, pensierini o poesie. Poi però dopo ho iniziato a suonare la chitarra per proprio lato superficiale. Quindi il primo strumento è stata la chitarra? Sì, no, l'ukulele. L'ukulele, perché io ho iniziato con la chitarra. Poi mi erano scocciato perché con la chitarra non riuscivo a fare il fa, che era un accordo difficile. E allora che ho fatto? Ho detto, ho preso questo ukulele perché il fa era facile. E quindi, niente, ho iniziato a suonare le prime canzoni con l'ukulele, anche canzoni comunque in cui l'ukulele non c'entra nulla. Ho provato a infilarcele e poi però mi sono detto, vabbè dai, prendiamo una chitarra che ha una sonorità diversa. Mi sono impegnato, ci ho battuto la testa, ce l'ho fatta due anni a suonarla decentemente. E niente, poi da lì le cose che scrivevo ho detto, perché non accompagnarle con la chitarra? E a volte la chitarra mi dice quello che devo scrivere. Perché io penso sempre che un accordo, te lo spiego, perché un accordo magari, ti dico un do, un re minore, hanno quel lato malinconico, quel lato nostalgico. E quindi ti, quel sublime, ti riportano, ti riportano un'idea, un ricordo e quindi sono loro a dirti, guarda, te scrivi su questo. Perché stavi seguendo un giro magari di do e ti è venuto in mente questo pensiero. C'è un luogo in cui componi, oppure qualsiasi posto è giusto. In realtà... C'è un tuo angolo. Io sì, non ho un vero e proprio posto, però bisogna di stare da solo. Devo essere so. Devo essere solo perché anche volessi scrivere una cavolata, devo poterla scrivere senza nessun giudizio esterno, senza problemi. Soprattutto voglio anche la riflessione magari mia, un mio pensiero, magari un pochino più intimo, che poi magari nella canzone viene detto in maniera semplice, generale, ma è tutto autobiografico quello che scrivo. Poi magari posso impersonarmi in un bambino, in un ragazzo più giovane di me, un uomo, non importa. Adesso sempre io sono. Chi ti piace a livello di artisti italiani o internazionali? Allora, io sono sempre stato fissato con la musica inglese da piccolo. Ascoltavo solo quella, non so perché. Triste. Non so perché. Musica inglese triste. Triste. Non dice pop. No, triste. Perché? Ma i pop, rap, rock, pop, rock, rock, ballate, pop, quello genere lì. Anche punk, rock, comunque un po'. Qualche esempio, qualche artista? Allora, per esempio, io ero fissato da piccolo con James Blunt. James Blunt? Ascoltavo sempre lui, perché a me le canzoni tristi mi rendono felice. Non so perché. E quale di James Blunt? Per esempio, io ho sempre ascoltato Same Mistake, che mi piaceva molto. Da piccolo la cantavo, ma la cantavo come la cantano i piccoli, quindi male. Quasi tutte canzoni d'amore. Esatto, sì. Poi l'amore, sì, sono sempre stato molto sensibile, quindi queste cose mi sono sempre piaciute. Invece ora, moderno, più che altro Ed Sheeran, mi piace molto. Ed Sheeran. Mi piace molto, molto, molto. E gli italiani, ho iniziato in realtà molto tardi a interessarmi della musica italiana, perché la vedevo sempre o come molto lontana da me, nel senso retro, oppure la vedevo così moderna da darmi fastidio, forse. Addirittura. E quindi, perché comunque gli inglesi hanno tenuto quella patina di, comunque, vecchio stampo, ok? Mentre in Italia si tende sempre a rinnovare, a fare qualcosa di nuovo, e non sono proprio un innovativo. Innovare per innovare non serve. Innovare per innovare non mi piace molto. Cioè, a me mi piace che se è una cosa è tradizione, c'è un motivo. Sono d'accordo. Quindi mi piace. Qui emerge anche la tua natura, la tua retinità. Sì, sì. Arezzo è una città molto tradizionalista, legata alle sue cose belle, no? Esatto, esatto. Che quartiere sei? Sant'Andrea. Sant'Andrea. Bianco vero. Esatto. Sono andato in Biagiotto. Completiamo questo discorso sulla musica italiana che è interessante. Sì, la musica italiana, io comunque sì, ora, in questo momento preciso sono, cioè, mi piacciono molto i pinguini trattici nucleari, che comunque mi piace quello che scrivono, perché non si impegnano a darti una morale, ok? Si divertono. Si divertono. Sono giocosi. E questo divertimento poi però ti insegna qualcosa. Sono giocosi ma c'è anche una profondità nel loro brano. Esatto. Però non è costretta. Cioè, anche io cerco sempre nelle mie canzoni di non costringerti a riflettere. Cioè, di poterlo fare se lo vuoi fare. Perché essere profondi, come hai detto, per essere profondi è proprio la mancanza di profondità più totale. Cioè, io amo la superficialità finta. Cioè, quello che ti dico questo ma dicendoti quest'altro. Ok? È una metafora continua. E a me piace. Quindi, pinguini trattici nucleari, poi Cesare Cremonini, tantissimo. Bravissimo. Sempre, sempre ascoltato. Perché mi mettono felicità. Cesare trasversale. Esatto. Poi ha attraversato già. Sì, tutte le epoche. Già attraversato almeno tre generazioni. Esatto. Cesare Cremonini. Quindi niente. Poi è Ernia, comunque, molto bravo nel suo stile. Io ammero chiunque sia bravo nel suo, nel suo stile. Perché, che sia rap, che sia pop, che sia rock. Quando una canzone è bella, oggettivamente, che si tratta di bello oggettivo, poi può non piacermi, è diverso. Io sono d'accordo che quella canzone vale la pena di essere ascoltata, sentita. Infatti io ascolto tutti i generi. Poi magari sono più inclini a un altro. Non ho discriminazione sul genere. Maestro Cremonini è molto bravo. Molto, moltissimo. Paolo dove vuole arrivare? Qual è il suo sogno? Fin'altro che si può. Non in realtà io ho il sogno di condividere con più persone possibile. Lo dico sempre. Perché a me piace stare al centro di attenzione. Ok? Quindi c'è un lato egocentrico. Che non detesto. Ok? Mi serve. Perché per fare questo lavoro, perché per adesso cerco che sia un lavoro, però è difficile. Per fare questo lavoro ci serve un po' di egocentrismo. È impossibile se no. Serve anche di avere qualcosa da dire. Esatto. Però ci vuole anche di avere il coraggio e la sfrontatezza di dirlo. Ci sono tante tante persone che hanno qualcosa da dire ma non hanno il coraggio di dirlo. E quindi rimangono dietro. E quello è il problema. Io penso di avere qualcosa da dire, non tanto di rivoluzionario. Cerco sempre di raccontare la verità. La mia verità. La verità non c'era nessuno. Però la mia verità è questa che io racconto. Chiaro, il tuo mondo. Che passa da determinate cose. E a proposito del tuo mondo, il tuo rapporto con gli amici, con le amiche? Il rapporto con gli amici e con le amiche. Le amiche ne ho poche. Le amiche... Perché c'è la fidanzata che ci fa. Sì, c'è la fidanzata che è la mia amica. A delimitare il terreno. Sì, sì. A delimitare il terreno. A terra bruciata. A terra bruciata. A miei amici... No, a miei amici io mi ci trovo benissimo. A parte perché io penso che i miei amici non siano come me. Ok? Però che sappiano chi sono. Per me è importante. Quindi accettano questa tua natura, questa tua sensibilità musicale. Esatto. Anche un po' questo egocentrismo, capito? Perché cosa succede? Che spesso le persone cercano di trovare le altre persone che siano simili a loro. Che condividono la stessa passione. Io invece cerco persone che non condividono per forza la mia stessa idea o la mia stessa passione. Ma che la comprendano e ti lasciano il tuo spazio di essere. E che magari ti completino con altre attitudini. Mi completino, certo. Io per esempio... Ho avuto degli amici completamente lontani dalle mie passioni, dal mio modo di pensare. Però amici per la pelle sono amici da tutta la vita. Esatto. E facciamo cose completamente diverse. Per esempio, i miei amici mi passano una serenità che io non ho. Io non sono sereno. Nei miei canzoni c'è felicità perché sono allegre, ma non sono felici. Cioè, ci sono delle... Perché è come la vita. Sei un po' inquieto e hai notato, con una sensibilità da inquieto, il bimbo nel parco che era felice. Esatto. Io mi ho sempre fatto le domande su tutto. Che faceva? Giocava il bambino? Giocava? No, in realtà parlava con la sua mamma, stava lì vicino a un passeggino, c'era stata la sua sorellina. I bambini sono felici. Sì, sono felici. Ma perché? Perché? Non hanno sovrastruttura. Che ti crei da solo, perché nessuno te li crea. Te li costruisci. Esatto. Quanti anni ha Paolo? Io ne ho 19, quasi 20. Praticamente è nato l'altro giorno. No. Giovanissimo, no? Ma già capace di grande riflessione, volevo farti complimenti. Grazie, grazie mille. Lo avevo già percepito dalla precedente intervista, che era solo audio l'altra volta. Poi abbiamo deciso di invitarti per far vedere anche la figura di Paolo, che è un bel ragazzo. Grazie. Che la fidanzata tenterà di ponere stretto. Guarda questa intervista qui. Lei guarderà questa intervista, la salutiamo, come si chiama la fidanzata? Viola, Viola. Viola, come la mia squadra del cuore. La Fiorentina, perfetto, vai. Un saluto a Viola, sicuramente. E hai Viola. A un babbo e una mamma tifosi della Fiorentina. No, no, però speriamo che magari siamo inclini. Salutiamo Viola. Salutiamo Viola. Mi raccomando, non tenere sereno Paolo. No, perché se no non scrivo niente. Esatto. Non tenendo sereno e tenendolo invece inquieto, io posso andare avanti con la mia carriera. Esatto, procede nella sua creatività e nei suoi componimenti. A questo punto, grazie di essere venuto. Niente, veramente, grazie a voi. Prendiamoci un bel caffè con Paolo. Sicuramente. E vi facciamo ascoltare la nuova canzone qua su Italia 5. Film d'animazione. Vai. Grazie, ciao. Grazie a voi.